Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Stabilità nella giornata dell'Epifania su un po' tutta Italia. Con ampie aperture del cielo i massimi di pressione si trovano proprio tra i Balcani, Stati Alpini e l'Italia. Solo un po' di aria fredda ancora fluisce sulle nostre estreme regioni meridionali ma ormai anche qui la tendenza è un graduale e netto migliamento. Andiamo a vedere la situazione nel dettaglio, la nuvolosità, un po' di variabilità sull'Appennino meridionale in mattinata con qualche residuo fiocco di neve a quote basse e poi via via bel tempo praticamente ovunque. Venti però freddi di grecale. Una giornata tranquilla per il nord e la prossima grafica ci conferma il tempo soleggiato, cieli sereni o poco nuvolosi anche sull'arco alpino, su tutti i comprensori scistici. Aumentano un po' di nubi, nubi basse solo sulla Liguria perché inizieranno qui i venti a ruotare di Libeccio. I maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.